Prodotto dei cambiamenti, secondo me, anche nella politica russa, che era già in tensione con l'Europa quelle sanzioni, volute anche queste dagli americani, ma che, incoraggiata da Trump, è diventata molto più attiva all'interno della politica europea. Cioè, vedere Putin che riceve l'EPE e il ministro degli esteri russo, Lavrov, che riceve Salvini, è abbastanza scioccante, soprattutto nella vita mia, non ho mai visto Lavrov senza la cravatta. Solo quando ha abbracciato Salvini si è tolto la cravatta. Nell'ambito di una diplomazia ferrea come quella russa è un segnale estremamente forte. Adesso, a parte degli scherzi veramente diventa un discorso di attacco diretto o indiretto all'Europa che prima non c'era. Che prima non c'era. La reazione... Grazie.